buongiorno a tutti di nuovo oggi affrontiamo il terzo esercizio che abbiamo lasciato in sospeso l'altra volta e poi parliamo di programmazione asincrona in javascript e non solo parleremo anche di programmazione funzionale in queste tre ore che che avremo prima di iniziare un avviso come forse avrete visto penso sia arrivata anche voi una mail da dal rettore le attività didattiche in presenza sono sospese per la situazione pandemica che ormai c'è da un anno e quindi sarà molto facile che il laboratorio della settimana prossima quindi quello del lunedì di queste ore del lunedì sarà svolto interamente online avremo quindi due turni un turno online dalle 10 alle 11 30 e un altro turno sempre online dalle 11 30 alle 13 credo che dividerò i gruppi che state componendo anzi vi ricordo di farlo se non l'avete ancora fatto a caso metà nel primo turno e metà nel secondo turno se qualcuno di voi avesse delle problematiche a essere presente alle 10 o alle 11 e mezza quindi in uno dei due turni come gruppo quantomeno me lo faccia sapere così evito di mettere quel gruppo proprio nell'ora in cui quel gruppo non può esserci perché magari avete un altro corso perché magari c'è qualcos'altro che avete da fare però appunto faremo due turni online finché la situazione ovviamente non non cambierà ed eventualmente potremo ritornare a fare un turno in presenza e un turno online questo era l'avviso allora partiamo come dicevo con questo terzo esercizio che abbiamo lasciato in sospeso l'altra volta che abbiamo giusto iniziato per installare dei .js per gestire le date cosa ci chiede questo esercizio io questo esercizio lo inizio adesso poi facciamo una parte di javascript assincrono funzionale l'argomento della lezione di oggi e poi lo riprendiamo perché alcune delle cose che vengono richieste da questo esercizio possono essere svolte meglio diciamo più più elegantemente e utilizzando la programmazione funzionale e quindi lo iniziamo adesso facciamo due tre punti di questo di questo esercizio e poi lo completiamo come esempio anche di programmazione funzionale così abbiamo anche un esempio non solo sugli oggetti ma anche sulla programmazione funzionale che potrebbe essere una buona cosa allora cosa chiede questo esercizio questo esercizio chiede di utilizzare gli oggetti in particolare di costruire nuovi oggetti di costruire di usare una funzione costruttrice per costruire un oggetto esame che ha queste proprietà codice del corso nome del corso crediti e voto tra 18 e 30 più un booleano per la lode e la data in cui l'esame è stato sostenuto e poi dopo aver costruito l'oggetto funzione l'oggetto esame costruire anche un altro oggetto che si chiama exam list che ha i seguenti metodi ha un metodo per aggiungere un nuovo esame ha un metodo per trovare dato il codice del corso l'esame sostenuto ha un metodo per avere la lista questa lista con tutti gli esami ma solo quelli svolti dopo una certa data quindi un metodo after date ha un metodo list by date che ritorna appunto una lista di esami di questi esami qui è ordinato per data decrescente e list by score stessa cosa del list by date ma per voto decrescente e poi un average che ritorna il la media dei voti dell'esame possiamo immaginare una media non pesata per esempio ok quindi quello che ci chiede di fare essenzialmente prima di tutto creare un oggetto che si chiama exams allora io qui ho ripreso lo stesso codice che avevamo lasciato nel sospeso l'altra volta ho aperto la documentazione di day.js quindi sul sito day.js.org sono andato qui su docs e ricordate l'altra volta abbiamo fatto due cose per ottenere questo che vedete sullo schermo prima di tutto vabbè abbiamo creato un progetto quindi all'interno della cartella abbiamo scritto npm init npm init se ricordate crea questo progetto e in particolare con una serie di chiede una serie di informazioni e crea poi il file che si chiama package.json che contiene le informazioni sul progetto questa parte qui che che sono quelle che npm init chiede e che noi abbiamo dato dopodiché abbiamo scritto npm install day.js perché volevamo installare day.js come libreria come pacchetto da utilizzare per gestire le date e questo ha installato day.js in locale in questa cartella e ha aggiunto al file package.json questa parte le dipendenze e appunto day.js la versione che abbiamo installato inoltre npm install ha anche creato questo file che si chiama package.json che riprende il package.json ma mostra anche tutte le dipendenze le eventuali dipendenze delle dipendenze in questo caso day.js non ne ha e sempre npm install ha creato la cartella node modules che all'interno ha i sorgenti di day.js in questo caso abbiamo solo day.js come dipendenza e voi potete anche se volete andare a vedere per esempio il package.json di day.js come fatto e così via allora la domanda in chat è mpm init e npm install lo dovremmo fare per tutti i progetti che faremo basta una volta e poi ogni volta lo usiamo come libreria esterna allora ogni volta che creato un nuovo progetto da zero in cui dovete usare delle librerie esterne dovete fare npm init e npm install le cose che sono richieste da quel progetto ovviamente se il progetto è già creato non dovete farlo se il progetto è creato da qualcun altro non dovete fare npm init cioè se c'è già il file package.json essenzialmente e il file package lock non dovete rifare npm init basta fare npm install e lo vedremo dopo per un esempio di questo e per questo perché perché le librerie le dipendenze sono installate localmente rispetto alla cartella quindi io in questa cartella ho day.js ma in un altro progetto sul mio computer non ce l'ho se volessi ed è possibile farlo se volessi installare una libreria a livello di sistema operativo così che i molteplici progetti possono utilizzarla basta fare npm install quello che volete come day.js meno meno global questo installa day.js a livello di sistema operativo all'interno di node e quindi qualunque progetto può a quel punto non deve ristallarlo riscaricarlo ma può utilizzarlo direttamente questo però capita raramente perché appunto è difficile avere tanti progetti che usino la stessa identica libreria nella stessa identica versione per sempre il modo comune, il modo normale di fare è che ogni progetto abbia le sue dipendenze nella loro versione specifica e le sue dipendenze scaricate all'interno del progetto quindi noi abbiamo l'altra volta installato day.js e abbiamo verificato che funzionasse in questo modo con queste due righe in cui in questo modo day.js ci stampa a schermo la data e l'ora attuale in questo momento preciso e abbiamo anche visto che per importare una libreria che abbiamo appena installato possiamo usare require e memorizzare il riferimento di quello che abbiamo appena importato in una variabile che possiamo chiamare come vogliamo tipicamente con un nome che ricorda la libreria quindi in questo caso day.js quindi cancelliamo queste due righe perché tanto non ci servono al momento lasciamo l'import perché giustamente l'import ci serve ecco se vi capita vedete che Vida Studio Code mette questi tre puntini e vi dice file è un modulo common.js può essere convertito in un modulo S6 questo se voi fate quick fix lo fa capiremo meglio più avanti qual è la differenza tra questo modo questo modo di scrivere common.js e il modulo S6 ma per ora quello che vi posso dire è che questo è al momento l'unico modo per importare librerie che Node.js riesce a eseguire riesce a capire l'altro modo quello S6 nonostante sia standard perché fa parte di ECMAScript versione 6 non è al momento sopportato da Node è solo sopportato dai browser quindi questo modo qui di importare librerie è il modo in cui si usa che si usa attualmente all'interno di Node ce n'è un altro che è standard a differenza di questo che si può usare invece nei browser e magari un giorno anche in Node ma al momento quando scrivete qualcosa in Node bisogna importare le librerie in questo modo allora torniamo al nostro esercizio il nostro esercizio ci diceva definire una funzione costruttrice che si chiama exam per creare un nuovo oggetto di tipo esame con queste proprietà quindi come facciamo? se ricordate una funzione costruttrice è una funzione normale che però si chiama tipicamente con la lettera maiuscola e quindi abbiamo i parametri della funzione allora i parametri di un esame cosa sarà? codice nome dell'esame crediti data il voto e la lode e come abbiamo visto una funzione costruttrice per costruire un esame un oggetto in questo caso di tipo esame possiamo scrivere this.code uguale code this.name uguale name e così via this.credits uguale credits this.date uguale date this.score uguale score e this.load uguale load this.date e quindi abbiamo creato il nostro oggetto di tipo esame la nostra funzione costruttrice di tipo esame e e e questo è quanto per vedere se funziona per poterlo utilizzare dobbiamo a quel punto creare un oggetto partendo da questa funzione costruttrice con la parola chiave new quindi per esempio const applicazioni web1 uguale new exam e a questo punto dobbiamo passare i parametri allora noi sappiamo che il codice è una stringa e quindi per esempio il codice del del corso che non mi ricordo 01 abc per esempio e il nome nell'ordine in cui ovviamente l'abbiamo dichiarati quindi applicazioni web1 i crediti 6 la data in cui abbiamo sostenuto l'esame e qui possiamo usare DJS per e qui possiamo usare DJS per creare una data quindi esattamente come abbiamo fatto prima che abbiamo scritto DJS e vediamo se possiamo prenderlo dalla documentazione string vedete basta dire DJS e poi la stringa che rappresenta la data eventualmente in formato ISO 8601 ma c'è anche un formato solo di date giorno quindi DJS che è come l'abbiamo chiamato noi qui la data in cui abbiamo sostenuto l'esame è 2021 0701 per esempio e il voto che abbiamo preso all'esame per esempio facciamo 30 e se la lode l'abbiamo presa ovviamente quindi in questo caso potremmo mettere false avete preso solo ho preso solo 30 non 30 lode ma si può fare leggo la domanda in chat si può fare un costruttore senza prima avere una classe che si ripresca un costruttore ecco questo diciamo no se non ho capito male la domanda questo è il costruttore senza avere la classe noi non abbiamo fatto una classe abbiamo costruito un oggetto neanche abbiamo costruito una funzione che si può essere un oggetto e poi abbiamo creato un'istanza di quella funzione un'istanza di quell'oggetto una classe non ce l'abbiamo questo sì la domanda era se era lecito sì questo non è solo lecito questo è è normale no in javascript ricordate che in javascript tutto è un oggetto essenzialmente quasi tutto è un oggetto come abbiamo detto l'altra volta con un po' di eccezioni e quindi e che in realtà le classi in javascript non esistono esiste un'altra cosa che si chiama prototipi e che però sono fortemente collegati agli oggetti e quindi questo è il modo normale di fare gli oggetti si possono creare distruggere modificare anche a runtime anche mentre si scrive il codice non c'è quella struttura rigida fatemelo dire così che c'è in java per cui serve una classe e poi la sua istanza qui ci sono oggetti che si possono modificare creare e istanziare ha un po' piacere quindi questo è il costruttore e questo è il nostro oggetto esame se noi stampassimo giusto per vedere il nostro av1 nod transcript vedremo che ci stampa in effetti un oggetto di tipo esame vedete lo scrive qui che ha una serie di proprietà ha un codice ha un nome ha un numero di crediti ha un voto ha una lode e anche una data la data vedete è formattata in maniera strana se volete perché è la data è in realtà l'oggetto dei JS che ha tutta una serie di proprietà tra cui l'anno il mese il giorno la settimana e in questo caso eccetera e e così via poi qui ovviamente ci sono altri modi se volete di formattare la data anche di dare eventualmente il fuso orario che uno volesse ma deve ovviamente importare un pezzo del libro in più perché DJS è molto modulare quindi ci permette di aggiungere vari tipi di di sopporto quindi questo è il nostro oggetto l'abbiamo costruito l'abbiamo stampato togliamolo un attimo questa stampa tanto non ci serve al momento la cosa la prossima cosa che ci chiede l'esercizio è di definire una funzione costruttrice che stavolta si chiama exam list che non ha solo proprietà come exam in questo caso ma anche dei metodi e quindi vediamo come possiamo costruire dei metodi eventualmente in aggiunta delle proprietà quindi come prima function exam come si chiama exam list e questa volta non abbiamo parametri perché non abbiamo niente a cui dobbiamo costruirlo rispetto alle specifiche quantomeno che abbiamo in questo caso potremmo averli esattamente come exam in questo momento non li abbiamo sì la data di giugno giustamente qui vedete indica il 30 giugno e invece del primo luglio per il fuso orario per qualche tipo di fuso orario adesso non mi chiaro perché è le 10 di sera visto che sono le 10 del mattino ma è 12 ore indietro però è dovuto a quello è dovuto al parsing bisognerebbe usare un parsing più specifico tipo questo qui in cui andiamo a specificare per esempio il formato e anche il fuso orario proviamo a specificare intanto il formato a vedere cosa succede sì le date sono complicate perché ci sono i fusi orari in mezzo niente bisognerebbe importare il pezzo per il fuso orario per poterlo gestire correttamente che sai in quale fuso orario si è messo in questo momento se facciamo 0,2 vediamo se ci dà lo stesso sì va 12 ore indietro e 12 ore rispetto adesso più o meno possiamo cambiare il modo in cui in cui djs stampa se stesso sì possiamo in realtà ci sono se ne guardiamo adesso stiamo stampando ricordate che adesso stiamo stampando l'oggetto intero no quindi non stiamo appunto è qui dentro quindi stiamo stampando l'oggetto date perché vogliamo manipolarlo però sì potremmo avere un modo invece di stampare direttamente l'oggetto potremmo avere un modo per stampare solo date o per formattare date in realtà se vi guardate se guardiamo la documentazione per esempio in display è possibile per esempio formattare con il metodo format la data come preferite con varie opzioni o per esempio calcolando il tempo da ora rispetto a insomma una serie di metodologie anche una string per esempio c'è il to string per stamparlo quindi se noi invece stampare l'oggetto così e lo elaborassimo un pochino e stampassimo solo per esempio le informazioni che ci servono oppure se non vogliamo manipolare date e qui direttamente salviamo to string per esempio però questo poi ci impedisce di manipolarlo se facessimo una cosa del genere perché qui abbiamo una string a questo punto memorizzata qui invece noi vogliamo per esempio trovare tutti gli esami dopo una certa data quindi non ci conviene in quel caso manipolarlo lì però date ha già una serie di formattatori tipo string che lo stampa in questo modo magari il fuso orario americano meno 12 è un po' più di americano direi meno 12 è tipo Hawaii mesi invece 6 perché il calendario è indicato con 0 no mese 6 perché ha applicato un fuso orario per cui siamo andati a finire a giugno a 15 quando abbiamo stampato 7 in teoria no di nuovo secondo la documentazione no perché mese dovrebbe partire da 1 in realtà a quanto pare parte anche lui da 0 in questo caso specifico perché se noi andiamo a vedere qui mese parte da 1 quindi in teoria teoria no però in pratica a quanto pare sì quindi ora la documentazione non è perfettamente aggiornata ah manca questo plug-in ecco manca il custom parse format plug-in quindi sì probabilmente essendo un wrapper solo di date il mese qui è indicato come 6 perché parte da 0 esattamente come fa date ecco la cosa bella e brutta di DJS è che funziona è molto piccola molto snella ma ha bisogno di dipendenze ha una serie di altri plug-in che stendono dei per alcune funzionalità specifiche per esempio questa si può estendere col custom parse format plug-in quella del fuso orario bisogna installare un altro plug-in di DJS per usare il fuso orario italiano eccetera 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 lavorare con le date è sempre complicato non c'è mai un modo facile di lavorare con le date in generale indipendentemente dal linguaggio stavamo dicendo exam list exam list deve avere i seguenti metodi per il momento facciamone tre facciamo questo add che dovrebbe essere facile facciamo il find e facciamo il list by date facciamo questi tre metodi quindi come aggiungere un esame trovare un esame e ordinarli ritornare un array degli esami ordinato per data così usiamo day.js non è un grosso problema per noi che shifti tutto indietro perché anche questo questo valore che inseriremo qui probabilmente verrà convertito in day da day.js quindi verrà a sua volta shiftato le 12 ore indietro quindi il risultato sarà coerente quantomeno nell'interpretazione quindi exam list ci servono tre metodi uno che è add abbiamo detto uno che è find e uno che abbiamo detto si chiama list by date allora questo ritorna questo è un array di esami una lista di esami e quindi avrà per esempio un this list uguale array quindi inizializziamo una lista di esami che è vuota in un proprio momento e che poi andremo ad aggiungere con l'add quindi l'add aggiungerà qualcosa a questa lista il find troverà da questa lista e il list by date prenderà questa lista e la ordinerà per data allora implementiamo il primo metodo come si implementa un metodo forse l'abbiamo già visto nelle slide ma in maniera analoga a come implementiamo in maniera simile a come implementiamo una proprietà quindi this.add e qui ci va la funzione quindi per esempio potremmo usare un arrow function e dire exam aperte graffe e a questo punto abbiamo una lista e quindi this.list punto push per esempio di exam questo fa il push quindi aggiunge in coda un esame quello che abbiamo passato qui alla lista proviamo a proviamo a farlo quindi proviamo ad aggiungere a questo punto il nostro AV1 quindi quindi costruiamo la nostra lista di esami che chiamiamo per esempio exams new exam list che non avrà argomenti in quanto è non ha non ha argomenti nel costruttore e a questo punto però su exams possiamo chiamare i suoi metodi per esempio add e aggiungiamo AV1 a exams e a questo punto possiamo per esempio sempre in maniera grezza ma stampare console exams giusto per verificare che l'aggiunta sia andata a buon fine allora come prima se lo lanciamo vedete che se noi stampiamo exams ci dice che è una lista che all'interno ha exam ha un singolo esame con esattamente le proprietà che abbiamo noi e che ha anche una funzione anche un metodo che si chiama add ma l'inserimento è andato a buon fine tenete presente che adesso stiamo stampando oggetti stiamo stampando oggetti e quindi il risultato che ci viene stampato non è esattamente bello da vedere o appropriato ma giusto per renderci conto che l'operazione effettivamente funziona se dovessimo farlo su serio non stamperemmo l'oggetto ma magari ci creeremo sopra estrarremmo le informazioni che ci servono le stamperemmo in un formato più carino di non proprio list dei punti parentesi quadra exam aperta graffa struttureremmo un po' meglio di così chiameremmo il toString su date eccetera però giusto per verificare che in effetti funzionasse a questo punto possiamo implementare find allora il find dice ritorna l'esame il singolo esame che fa il match tramite codice del corso quindi esattamente come fatto prima this punto find qui vuole il codice del corso come parametro quindi lo passiamo come parametro e implementiamo un cerca come possiamo implementare un cerca secondo voi come cerchiamo questo codice all'interno dell'array certo un for un for in o un for off o un for im uguale a zero i qualcuno che dice qualcosa di diverso da in off esattamente for off ricordateci ricordatevi per ciclare su un array come dobbiamo ciclare noi in questo momento è for off per ciclare su un oggetto sulle proprietà di un oggetto usiamo for in quindi for const c che sta percorso of this punto list e poi diciamo se c punto code c è il nostro corso equivale al codice che abbiamo passato allora ritorniamo il corso e di default perché se la lista è vuota o se questo codice non esiste ritorniamo undefined non dimentichiamoci punte virgola alla fine dei metodi esattamente come alla fine di una qualunque proprietà quindi cicliamo sulla lista se è piena entriamo in questo if che dice se il codice dell'elemento che stiamo considerando sulla lista equivale al codice che abbiamo passato come parametro ritorniamo l'intero corso altrimenti in ogni caso comunque sia che la lista sia vuota sia che non ci sia un codice ritorniamo undefined ci basta ritornare la prima volta perché il codice in questo caso è univoco per l'esame quindi non possono esserci due esami lo sappiamo noi non possono esserci due esami che hanno lo stesso codice vedete ritorna l'esame che fa match e dobbiamo tornare ad un oggetto di tipo esame non dobbiamo tornare il nome per esempio quindi l'intero oggetto vuole secondo questa specifica diciamo secondo l'esercizio quindi questo è il find verifichiamo che funzioni quindi exams punto find e cosa cerchiamo? ci serve un codice proviamo a cercare 0 1 abc che è esattamente il codice della nostra del nostro esame che abbiamo inserito quindi facciamo console.log di questo sempre per verificare che funzioni e poi proviamo anche a cercare un qualcosa che non c'è quindi 0 1 x x x che sicuramente non c'è perché non l'abbiamo inserito allora innanzitutto la lista va definita avete ragione e fatemi anche aggiungere la cosa che non dobbiamo mai dimenticarci così evitiamo questi problemi ah no scusate qui non si può definire la lista questo serve io strict giusto per non dimenticarci ma qui è corretto non definire perché siamo all'interno di un oggetto stiamo definendo le proprietà di un oggetto di una funzione costruttrice in questo caso specifico e quindi è giusto non definire con nessun tipo di let const semplicemente this.list infatti se voi provate vi dà errore vedete mi dice punto e virgola atteso perché dopo un let ci vuole il nome di una variabile e this non è è una parola chiave quindi non non si può utilizzare quindi quando c'è this.list dovete definirlo così direttamente perché è una proprietà di un oggetto se questo è lista è la lista che senza usare il this cosa sarebbe successo? sarebbe successo che questa proprietà non era non apparteneva a questo oggetto non sarebbe stata la sua quindi qui ogni stanza di exam.list ha la sua lista associata tramite il this non è una lista qualunque quindi è più corretto in questo caso usare il this ecco il this lo vedremo però per ora immaginatelo come il this che avete in java o in altri linguaggi è il this che appartiene all'oggetto che fa riferimento all'oggetto quindi this.list è la lista di quella è il list che c'è in quella specifica istanza di exam.list in quella che abbiamo costruito qui dicevamo console.log vediamo se qui ci aspettiamo di trovare questo oggetto quindi di nuovo stampato in maniera brutale e qui invece ci aspettiamo di trovare undefined quindi eseguiamolo di nuovo e vedete che in effetti la prima volta ci torna applicazioni web e la seconda volta ci stampa undefined ora list by date ormai sapete come funziona provate a dettarmi cosa devo scrivere questo è un altro metodo quindi cosa scriviamo per definire il metodo ok this punto list by date ecco poi che cos'è l'eccetera abbiamo bisogno di parametri qui dire di no ritorno un array di esami ordinato per data crescente quindi nessun parametro quindi va bene così e certo poi useremo sort quindi return che cosa scriviamo qui allora un suggerimento è this punto list punto sort e qualcosa dentro sort ovviamente perché questo non va tanto bene il sort sì perché questo this punto list non va tanto bene esatto perché sort modifica la lista e noi non vogliamo tutte le volte non vogliamo avere la lista questa lista qui di default ordinata per data la vogliamo ordinata per data solo quando chiamiamo questo metodo no ritorna un array di esami ordinati quindi questo che deve essere ordinato non quella che ha dentro exam list quindi cosa possiamo fare invece di scrivere questo il sort va bene sì per esempio potremmo scrivere esatto possiamo creare una shell copy ordinata in uno dei vari modi che abbiamo visto con l'array oppure io preferisco sempre questo ma sono equivalenti ovviamente di spunto list quindi con l'operatore di spread però sì essenzialmente creiamo una copia di quella lista e ordiniamo la copia della lista ecco ricordate sort a due parametri a e b che se sono maggiore di uno rimane nell'ordinamento attuale se è minore di zero scusate se è maggiore di zero rimane nell'ordinamento attuale se uno rimane nell'ordinamento attuale se è meno uno diciamo bisogna invertire i valori quindi cosa scriviamo qui per l'ordinare l'altra volta abbiamo fatto un ordinamento normale di numeri era a meno b quindi a meno b ordinava dal più piccolo numero al più gran numero qui cosa dobbiamo fare qui dobbiamo ordinarli per data crescente quindi andiamo a vedere innanzitutto cosa potrebbe servirci per capire data crescente vuol dire che abbiamo una data e dobbiamo capire se quella data è prima o dopo un'altra data quindi per esempio scegliamo dopo potremmo anche scegliere con prima ma scegliamo dopo allora qui se vedete una documentazione esiste un is after che ci dice se una certa data è dopo una data specificata in millisecondi quindi fa il confronto tra millisecondi quindi noi qui dobbiamo scrivere a che è il primo oggetto punto date allora a è un corso e anche c è un corso quindi questo è il corso 1 e questo è il corso 2 ogni coppia di elementi nell'array quindi a che è un corso è il primo corso punto date la proprietà date che è di tipo date.js is after b punto date allora se dopo torniamo 1 altrimenti torniamo meno 1 questo è lo stesso operatore ternario che per esempio avete in c che dice se questo è vero torno 1 altrimenti torno 8 in questo modo sono ordinati per data crescente proviamo a vedere se è vero e quindi facciamo exams punta in questo caso ce n'è uno solo aggiungiamo un altro un altro corso che fate adesso o che avete fatto in passato un nome a caso così usiamo un esempio ragionevole grazie devono ovviamente essere diversi software engineering va bene SW 1 SW nuovo esame il codice bo 02 AAA il nome ingegneria del software i crediti suppongo sia 6 la super rete diciamo bo non a luglio diciamo il 15 giugno e e lì prenderete 28 perché siete più bravi ad applicazioni web e quindi prenderete un po' meno software engineering e a ingegnere il software quindi aggiungiamolo software engineering e a questo punto possiamo fare const chiamiamola ordered list giusto per averlo e a questo punto diciamo exams punto list by date e mettiamo come data cosa mettiamo come data ah niente scusate list by date è solo ordinato c'è un altro che ci chiede una data ma mi confondevo ok exam list by date e a questo punto poi stampiamo ordered list sì dovremmo giustamente dovremmo aggiungere false ecco una cosa che potremmo fare visto che così ripassiamo anche un attimino le funzioni una cosa che potremmo fare visto che diciamo così da 18 a 30 tutti hanno la load e false e poi ce n'è uno il caso 30 load è che la load è vera e definire che load visto che è l'ultimo parametro possiamo farlo cioè possiamo farlo anche se non è l'ultimo parametro ma visto che l'ultimo parametro è comodo farlo possiamo dire che load è uguale a falso e di default se non è passato il parametro la load non c'è in questo modo questa si può cancellare e questa si può cancellare se invece la passiamo è perché vogliamo passare un qualcosa di diverso da false quindi una piccola modifica così tutte le volte non dobbiamo scrivere vero o falso cioè dobbiamo scrivere vero solo quando c'è la load quindi per esempio potremmo scrivere true ad applicazione web quindi eseguiamo questo ah sì cosa serve questo? questo è un operatore ternario e è l'equiliente di scrivere se a date is after b date allora return 1 else return meno 1 c'è da qualche parte nelle slide credo che abbiamo visto finora una ricerca di cosa? che è in senso volessimo fare una ricerca? beh fatemi dire due cose ok del codice esame non così sicuramente dovremmo dovremmo verificare se string possiamo andare per esempio qui a vedere se string non mi fa andare nel altro tab scusate ok se string ha un to ha un qualche modo di confrontarsi che sia insensitive per esempio quindi per esempio potremmo vedere che non sono sicuro che ci sia proprio quello che lo sto cercando non lo vedo beh un modo potrebbe essere convertirlo tutto a lowercase o uppercase e quindi a quel punto fare il confronto essendo sicuri che in ogni caso sia corretto esatto essendo sort basato sulle string si potrebbe selezionare la data e fare semplicemente sort non ho capito la domanda sort è un metodo di un array quindi ti serve un array innanzitutto e date in questo caso è un oggetto non è una stringa tu dici potrei prendere la data convertirla in stringa e fare semplicemente sort quindi ok in questo caso sort si applica agli array date in questo caso è l'oggetto è l'oggetto che abbiamo memorizzato è questo oggetto qua che vedi non è esattamente è un oggetto vero e proprio non l'abbiamo convertito in stringa proprio per poter utilizzare is after se avessimo scritto to string che è possibile farlo ovviamente abbiamo visto non potremmo usare is after ma potremmo fare meno b potremmo non usare niente scusate se avessimo convertito prima in stringa non useremo niente ma a quel punto il to string per esempio ci torna anche il giorno della settimana e quindi in realtà avremo tutti quelli che sono tutti i venerdì prima perché è in inglese quindi tutti i friday e poi quindi ordinati tutti così quindi tutte le date che sono di venerdì poi tutte le date che sono non lo so di lunedì e così via quindi non è proprio il risultato che avremmo ottenuto con l'ordinamento alfabetico e perché il to string converte in anche il giorno se invece avessimo avuto solo questo 2021-07-01 e quindi la stringa 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 probabilmente poteva funzionare perché ordinava alfabeticamente quindi metteva prima tutti i 2021 poi tutti i 2019 esatto in un ordine nell'altro poteva funzionare anche così ma questo è un oggetto quindi ci tocca farlo così stavamo dicendo proviamo proviamo a sì potevamo estrarre la stringa dall'oggetto ma diventava ancora più lungo cioè qui dentro stavamo le stringhe dall'oggetto intero e poi avevamo un nuovo array di date quindi poi dovevamo ordinarlo e poi andare a rimappare insomma era più era più complicato potevamo estrarre la data qui ma poi ci perdevamo a tutti i metodi come questo che in realtà sono molto comodi perché a quel punto avremmo dovuto manipolare stringhe quindi in questo caso è più comodo fare così e eventualmente stampare la stringa in formato ragionibile non così quando c'è bisogno di dare un output al programma stavamo per lanciare questo con la lista ordinata certo perché si chiama dayjs manca una j giustamente days non è definito perché noi l'abbiamo chiamato dayjs ok quindi ora dovrebbero essere ordinati quindi dovremmo avere prima software engineering e poi applicazioni web web1 andiamo a vedere vedete che in effetti prima c'è engineer software e poi c'è applicazioni web1 nonostante noi l'abbiamo inseriti esattamente nell'ordine opposto abbiamo inserito prima applicazioni web1 e poi engineer software ok quindi sì questa lezione verrà registrata sì sì è una lezione certo che viene registrata ok quindi cancelliamo questo quest'ultimo log perché tanto al momento non ci serve e e per ora fermiamoci qui perché gli altri metodi li proviamo a fare dopo che abbiamo la programmazione funzionale così abbiamo anche un altro esempio non solo in manipolazione di data ma abbiamo anche un esempio di programmazione funzionale vedo che c'è una domanda quindi aspetto un attimo non è una domanda ok ok quindi qualche altro dubbio su questo esercizio questo esercizio poi vi diamo anche una soluzione che abbiamo fatto per i primi due che abbiamo fatto la settimana scorsa magari non è identica questa ma ovviamente sarà una soluzione dello stesso esercizio possiamo non mettere questo potremmo ma qui dovremmo scrivere una funzione no perché questo torna vero o falso e sorta bisogno di un valore numerico quindi ci serve per forza perché se no non viene ordinato in nessun modo potremmo scriverlo nella versione più lunga se a date is after b return 1 else return meno 1 ecco se le date sono uguali in questo caso l'is after non è chiaro come si comporti non mi è chiaro come si comporti ma se uno vuole confrontare anche che le metterà probabilmente a caso dipende l'is after cosa torna se le date sono uguali e non è scritto purtroppo nella documentazione però c'è anche un is same se uno vuole considerare anche quello bisogna installare un plugin però per usare l'is same or after che quindi controlla se la data è la stessa o l'uguale e in quel caso se sono la stessa o dopo se la stessa data o successiva ritorna true altrimenti ritorna false qui dipende cosa ritorna se le date sono uguali questo is after se ritorna true tornerà 1 se torna false tornerà meno 1 sì purtroppo la documentazione di djs diciamo poteva essere fatta meglio ma la libreria è molto usata e quindi per quello che l'abbiamo utilizzata quest'anno però l'augmentazione è molto minimale diciamo ok allora se qui non ci sono altre domande iniziamo facciamo un po' un po' di lezione facciamo una pausa e parliamo di programmazione asincrona in javascript in particolare non parliamo solo di programmazione asincrona è un titolo un po' forviante ma parliamo di questi argomenti del callback che in realtà abbiamo già visto le callback sono quelle che inseriamo dentro il sort per esempio parleremo di programmazione funzionale come esempio di callback sincrona poi parleremo di programmazione asincrona con un esempio su accesso di database che è asincrono e le promise e la sync wait come un modo moderno di risolvere alcuni problemi che sono insiti nella programmazione asincrona e che sono funzionalità del linguaggio di programmazione quindi diciamo che da qui in poi sarà programmazione asincrona prima ci sarà anche un po' di programmazione sincrona potrebbe inviarci il mio file transcript.js sì in aggiunta alla soluzione tu dici ok sì sì non c'è problema vi condivido anche i file che facciamo live in aula non c'è nessun problema non solo transcript ma anche altri che magari facciamo allora partiamo dalle callback le callback le abbiamo già viste le abbiamo già incontrate col sort quando l'altra volta vi ho detto sì non facciamo cos'era la rimozione dei due voti più bassi nell'esercizio che abbiamo fatto giovedì non possiamo farlo col sort perché il sort richiede una callback e poi abbiamo visto anche come si fa col sort ma inizialmente l'abbiamo fatto con minimo trovando il minimo due volte ecco una callback è quella che usiamo per esempio nel sort è una funzione che viene passata da definizione a un'altra funzione come un argomento e poi a sua volta è invocata per completare dalla prima funzione per completare qualche tipo di routine o qualche tipo di azione e le callback possono essere sincrone o possono essere sincrone noi per ora abbiamo incontrato tutte callback sincrone quella del sort è sincrona ma voi potete usare funzioni che usano le callback come il sort o anche addirittura creare a vostra volta delle callback no questa perché perché la callback essenzialmente è una funzione che viene passata come argomento un'altra funzione quindi basta prendere due funzioni qualunque e fare questa stessa operazione quindi se noi abbiamo una funzione che si chiama logquote che non fa altro che fare un console.log noi poi possiamo creare una funzione che si chiama createquote che ha un parametro che sarà una citazione e una callback e poi formattare in questo caso la citazione in qualche modo come ho sempre detto mettere qui la citazione e a quel punto chiamare la callback che abbiamo chiamato proprio callback con questo nuovo parametro che abbiamo passato allora cosa ci permette di fare questo? questo ci permette di personalizzare per esempio dove questa quote dove questa citazione venga stampata come venga stampata potrebbe essere stata stampata a schermo potrebbe essere messa in un file potrebbe fare diverse cose dopo averla creata come citazione quindi in questo caso possiamo unire collegare due funzioni tra di loro attraverso questo meccanismo quindi possiamo chiamare come vedete qui createquote una citazione e poi chiamare la callback che è logquote questo cosa fa esattamente come funziona il sort questo chiama innanzitutto il createquote con questo parametro webapp1 rocks viene messo nella variabile del parametro quote viene costruita questa citazione like I always say like I always say webapp1 rocks viene costruita questa con string literal e poi questa viene passata alla callback la callback cos'è? la callback è il riferimento a logquote perché viene passato come parametro logquote e quindi questo chiamerà effettivamente logquote passando come parametro quote il myquote logquote a sua volta stamperà a schermo console.log like I always say webapp1 rocks quindi le callback sono un modo che javascript ha e ripeto l'abbiamo visto nella sort ma potete anche crearle a mano come in questo caso per collegare due funzioni quindi anche personalizzare eventualmente l'output come in questo caso di due funzioni diverse in questo caso ripeto createquote se lo si chiama con logquote potrebbe stampare a schermo la citazione se lo si chiama con non lo so salva sul db quote savequote potrebbe salvare quote sul db invece che stamparlo a schermo quindi potrebbe fare altre cose rispetto a semplicemente la stampa a schermo e queste altre cose non serve ridefinire n volte createquote ma basta poi definire le funzioni che specificatamente eseguono questa callback le callback sono di due tipi sincrone e asincrone come vi dicevo ne abbiamo già trovato quelle sincrone i sort è un esempio di callback sincrona cosa vuol dire sincrona vuol dire che viene eseguita in quel momento e viene eseguita interrompendo se volete il flusso del programma nel senso questi sono due modi equivalenti di scrivere la sort noi l'abbiamo sempre scritta con le arrow function ma si può anche scrivere passando una funzione vera e propria essendo entrambi i modi per definire una funzione dicevo cosa vuol dire sincrona vuol dire che noi eseguiamo questa riga di codice quando questa riga di codice è completata eseguiamo la seconda in questo caso number.sort quando questa riga di codice con la sua callback è completata eseguiamo il console.log quindi se questo sort fosse un ordinamento di un array di un miliardo di numeri richiederebbe un po' di tempo e il nostro programma rimanerebbe in attesa quel po' di tempo prima di poter stampare i numeri ordinati questo e le callback sincrone oltre che nel sort sono anche usate per la programmazione funzionale di cui il sort può essere visto come un esempio ma noi fatemela saltare questa perché tanto è questo un metodo di programmazione funzionale e l'abbiamo già incontrati quando abbiamo parlato degli array a un certo punto poi torno indietro abbiamo detto per iterare sugli array oltre for off che è il metodo preferito oppure for i uguali a 0 i minore di x i più più possiamo anche usare questi metodi che sono funzionali che vedremo poi il for each every sum map filter e reduce questi sono tutti metodi funzionali che si applicano agli array quindi agli array non agli oggetti e hanno diverse proprietà e hanno diversi funzionamenti cosa vuol dire che sono funzionali la programmazione funzionale senza andare troppo nel dettaglio è un paradigma di programmazione c'è la programmazione oggetti che è il suo paradigma c'è la programmazione funzionale che è un altro paradigma l'idea della programmazione funzionale è che il codice venga strutturato utilizzando funzioni quindi non come nella programmazione oggetti intorno a degli oggetti che si costruiscono a sostanza ma intorno a delle funzioni che vengono chiamate anche a volte concatenandole una con l'altra non è la programmazione funzionale il paradigma principale di javascript che continua a essere nasce soprattutto come linguaggio di programmazione a oggetti ma è uno dei paradigmi che javascript supporta e supporta in maniera buona soprattutto per esempio abbiamo visto sugli array o sui sort questo perché perché inattivamente javascript interpreta le funzioni come oggetti e quindi è facile estenderlo da questo paradigma ha uno stile se guardate qui questo esempio dichiarativo piuttosto che imperativo e può anche migliorare in alcuni casi la leggibilità del programma per esempio questi due pezzi di codice sono equivalenti cioè io voglio generare un array questo new array a partire da un array esistente filtrando i valori dell'array esistente in qualche modo quelli le date per rimanere sul nostro esempio di prima le date successive a oggi dammi tutti i risultati le cui date sono successive a oggi o successiva una data specifica quindi un filtro allora in programmazione funzionale con un paradigma funzionale vi basta una riga di istruzione in cui qui in filter function indicate qual è la funzione per eseguire questo filtro che sarà un qualcosa tipo course punto date punto is after dayjs aperto e chiusa parentesi se vogliamo farlo oggi in programmazione non funzionale dovreste fare un for e poi un if con una certa condizione e poi salvare i dati in un nuovo array e poi dopo lavorare con il nuovo array quindi in questo esempio molto semplice rimpiazziamo tre righe di codice con quattro con l'inizializzazione del nuovo array con una riga sola quali sono brevemente le caratteristiche principali della programmazione funzionale queste sono qui un po' perché le usiamo e un po' perché possono essere utili per voi se volete andare a verificare qualche andarne a sapere di più sulla programmazione funzionale che non è sicuramente l'oggetto di questo corso ma useremo il paradigma funzionale perché in molti casi è molto più facile molto più veloce scrivere questo piuttosto che fare un for con dentro un if e così via in una riga soprattutto quando saremo sul web in una riga otteniamo magari già il risultato che abbiamo e questo è molto comodo la programmazione funzionale ha quattro paradigmi ha quattro caratteristiche principali che ogni linguaggio che implementa la programmazione funzionale il paradigma funzionale deve adottare la prima è che le funzioni devono essere cittadini di prima classe quindi devono poter essere usate come variabili come costanti si devono poter combinare con altre funzioni si possono generare nuove funzioni si possono concatenare una funzione con l'altra eccetera il secondo è che le funzioni devono essere di altro ordine quindi una funzione può operare su un'altra funzione una funzione può prendere uno più funzioni come argomenti come parametri e ritornare una nuova funzione e noi abbiamo già visto per entrambe queste cose che javascript è ben ben predisposto in quanto le funzioni sono oggetti e quindi possiamo passare una funzione come parametro possiamo avere il riferimento alla funzione da utilizzare l'abbiamo visto l'altra volta quando un oggetto quando ritornavamo la funzione e poi le invocavamo dopo possiamo passare una funzione come parametro le callback sono un esempio di questo e così via nella programmazione funzionale si deve anche poter comporre funzione e si deve anche poter concatenare funzione quindi poter dire per esempio qui array punto filter punto map punto reduce punto qualcos'altro quindi concatenare funzioni una dopo l'altro in modo che ognuna si applichi al risultato di quella precedente quindi se qui mettessi un punto punto sort per esempio ecco potrei ordinare quella già filtrata per esempio quindi posso concatenare le funzioni in questo paradigma e questo anche lo possiamo fare e anche le parti funzionali di javascript lo permettono una caratteristica della programmazione funzionale e una caratteristica di tutti i metodi di programmazione funzionale che adesso vedremo è che la programmazione funzionale richiede di evitare la mutabilità degli oggetti coinvolti nella funzione che viene chiamata quindi non cambiare un oggetto quando viene chiamata una funzione quindi fare quello che il sort non fa il sort ordina l'oggetto attuale non restituisce una copia dell'array invece nella programmazione funzionale noi dobbiamo evitare queste cose dobbiamo se costruiamo una funzione secondo il paradigma o utilizziamo un qualcosa che utilizzi il paradigma funzionale noi dobbiamo se facciamo un cambiamento in un array ritornare un nuovo array non all'array modificato questo è caratteristico della programmazione funzionale e questo è anche comune a tutte queste metodi che ritornano tranne forse il primo che quando manipolano diciamo così quando manipolano un array ritornano un nuovo array non modificano l'array in place allora quali sono questi quattro metodi quattro tipi diciamo così di metodi per iterare sugli array che sono un esempio molto comune è una cosa che si usa abbastanza in javascript ed è anche un motivo per cui ho interrotto l'esercizio perché alcune cose si possono fare molto più velocemente in questo modo piuttosto che andando a scrivere for con dentro if con magari un altro for eccetera cosa sono questi metodi beh il primo è il for each il for each come dice il nome è un for esegue un cicofor ma esegue un cicofor non nel formato che che conosciamo né for off né for i uguale a zero i minore di i più più ma attraverso una callback per ogni elemento di un array quindi cosa fa per esempio in questo caso il for each abbiamo un array che è letters che è composto da hello world uno per ogni una lettera per ogni posizione dell'array poi definiamo una variabile uppercase che lasciamo vuota di una stringa e poi diciamo per questo array letters per ogni elemento di questo array letters for each consideriamo la singola lettera e per ogni singola lettera la mettiamo uppercase e la aggiungiamo ad uppercase quindi fa un for per ogni lettera la rendo maiuscola e la metto in uppercase quindi prenderò h la metto maiuscolo e lo metto in uppercase in questa variabile uppercase prendo e la metto maiuscola e la metto una variabile uppercase prendo l la metto maiuscola e così via e poi stampo uppercase quindi è un modo analogo al for of qui potremmo scrivere for letter of letters uppercase più uguale ma funzionale per fare questo tipo di operazione con quindi usando una callback che di nuovo è sincrona esattamente come è sincrono un un for un ciclo while un ciclo for un qualunque ciclo in javascript ecco notate che for each si applica agli array ma si applica a ogni cosa che è iterabile quindi non solo necessariamente gli array non si applica agli oggetti perché gli oggetti non sono iterabili ecco la caratteristica di for each è che la callback può avere tre parametri uno l'abbiamo visto che è letter che è il valore corrente dell'elemento ciclato su cui si sta ciclando il secondo parametro è l'indice di quell'elemento quindi nel nostro caso se avessimo qui avremmo letter virgola index virgola il terzo parametro quindi quando letter e h index sarebbe zero quando letter e e index sarebbe uno e così via questo perché perché qui dentro nel corpo del for each nel corpo della callback potrebbe essere utile avere anche l'indice magari ci serve l'indice per fare qualche tipo d'operazione e quindi quella è un parametro che volendo è opzionale ma si può avere se servisse il terzo parametro è l'intero array l'array in cui for each è stato chiamato nel caso in cui servisse di nuovo per recuperare non lo so la lunghezza dell'array for each non è concatenabile essendo un ciclo non potete dire for each e poi punto filter per dire non è concatenabile quindi si deve usare da solo il risultato non si può concatenare con un'altra funzione e ritorna sempre undefined quindi non ha un ritorno ha un qualcosa che ritorna ma è undefined non ritorna il nuovo array non ritorna gli elementi ma come abbiamo visto nell'esempio bisogna memorizzare da qualche parte questa questa informazione l'informazione che saremo dal for a differenza di un for normale non c'è un modo per stoppare o interrompere un for each se non lanciando un'eccezione quindi un throw exception qualcosa e for each non cambia l'array in cui hai chiamato quindi rispetta quello che abbiamo detto prima che i metodi funzionali non devono cambiare l'array ma la sua callback essendo una callback aperta potrebbe mutare l'array se seguissimo strettamente il paradigma funzionale la callback non dovrebbe non deve mutare l'array ma dato che la callback è scritta dai programmatori i programmatori possono fare quello che vogliono addirittura l'array può essere passato come parametro quindi qui un programmatore ha accesso pieno all'intero array non solo al singolo elemento dell'array però essenzialmente è un modo diverso un modo funzionale di usare un for fa all'incirca quello che fa un for solo che lo fa in maniera un po' diversa e eventualmente con un paio di parametri in più che nel for è un pochino più difficile diciamo così da recuperare come l'indice e l'intero array non difficile ma bisogna scriverlo in un certo modo la seconda funzione funzionale che vediamo quindi il primo era per iterare è un ciclo la seconda si chiama every ed è sempre un qualcosa che itera sull'array ma è un qualcosa che serve per verificare insieme a quella successiva un qualcosa verificare che gli elementi nell'array passino dei test forniti dalla callback che viene utilizzata in every e nella funzione successiva che si chiama sum domanda quindi si può usare for each nel metodo find dell'esercizio sì essenzialmente in quel metodo find dell'esercizio si potrebbe usare for each ma vi anticipo si potrebbe usare per fare ancora prima filter che è una delle cose che adesso vediamo però sì praticamente dovunque ci sia un for si può usare un for each se c'è un array se c'è un for su un array si può usare un for each però non l'abbiamo mai fatto perché ovviamente non non avevamo ancora fatto programmazione funzionale cosa vogliono dire i tre uguali dove in questa slide in generale ok adesso qui ad esempio ci arrivo un attimo e allora Avery è una funzione che verifica se tutti gli elementi in un array passano un certo test che è implementato dalla callback la callback può avere le stesse tre parametri del for each quindi obbligatoriamente l'elemento da considerare l'elemento attuale il valore corrente eventualmente l'indice eventualmente l'intero array su cui si sta eseguendo il test Avery ritorna un valore booleano quindi ritorna vero o falso secondo le regole che abbiamo detto prima che abbiamo detto nella prima lezione e ovviamente dato che deve verificare se tutti gli elementi passano il test appena trova un elemento che non lo passa interrompe l'esecuzione quindi se il primo elemento già non passasse il test gli altri non verrebbero considerati perché è proprio un test che deve verificare se tutti gli elementi passano il test quindi appena uno non lo passa non importa se gli altri lo passano meno quindi non verifica quanti elementi non passano il test e quanti elementi passano il test verifica se ce n'è almeno uno che non lo passa appena lo trova interrompe l'esecuzione quindi se fosse ripeto se fosse il primo elemento che non passa il test boom finisce subito e restituisce false perché l'elemento non è stato il test non è stato passato e qui ci sono due esempi ogni elemento qui è minore di 10 come funziona Avery prende il primo elemento e dice 1 minore di 10 sì 2 minore di 10 sì 3 minore di 10 4 minore di 10 5 minore di 10 dato che nessuno ha fallito il test a quel punto Avery al fondo ritorna vero nel secondo caso ritorna false perché non tutti gli elementi sono pari e lo ritorna già al primo 1 è divisibile per 2 con il resto 0 no e quindi ritorna falso che cos'è questo triple uguale l'abbiamo usato anche nell'esercizio giusto per ricordarlo è l'operatore di eguaglianza stretta ricordate ci sono due operatori di eguaglianza in javascript il doppio uguale e il triplo uguale il doppio uguale fa l'eguaglianza ma converte gli elementi dell'eguaglianza in modo da poterli confrontare il triplo uguale non perform non realizza questa conversione e quindi se state confrontando col tipo uguale una stringa con un numero sarà probabilmente sempre false col doppio uguale se confrontate la stringa 5 con il numero 5 vi darà vero perché converte entrambi nello stesso tipo in un certo senso quindi triplo uguale eguaglianza stretta quindi senza conversione di valori di tipi un parente di Avery è Sam mentre Avery verifica se tutti gli elementi passano un test Sam verifica se ce n'è almeno uno che lo passa come Avery ritorna vero o falso e esegue quest'operazione finché trova un elemento che passa il test perché di nuovo come per Avery non gli interessa sapere quanti lo passano quanti non lo passano ma gli interessa sapere se ce n'è almeno uno che passa il test quindi se il primo elemento passasse il test tornerebbe subito true se fosse il secondo elemento di 100.000 ritornerebbe comunque true e gli altri 99.000 erotti non verrebbero neanche considerati non verrebbero neanche valutati da Sam perché al secondo elemento avrebbe già ottenuto il risultato quindi la stessa operazione che con Avery dava false qui da true invece perché ci sono alcuni numeri pari subito all'inizio quindi non verifica neanche l'intero array se voi provate a fare sum di isNone isNone è un metodo che vi dice se è una funzione se è un numero se è un valore scusate è un nota number ecco se voi provate sum di isNotaNumber potete verificarlo lo lascio voi diciamo così come curiosità provate a copiare queste righe di codice invito a studio code a eseguirla stampare fare console.log di queste due righe e vedere cosa avviene fuori e poi andate a rivedervi quello che abbiamo detto sul true e false nella prima lezione che c'erano alcuni elementi che tipo zero meno zero eccetera che valevano vero o falso mentre altri valevano falso mentre altri ci si aspettava che valessero mentre altri assumevano comunque un valore vero o falso come nota number che magari non è quello che ci aspettiamo se ci pensiamo ma dobbiamo rispettare le regole che ci siamo detti là e appunto for each ciclare every sum verificare se tutti gli elementi passano un test o se qualche elemento almeno un elemento passa un test ci sono poi altri tre metodi che sono importanti che vengono utilizzati che questa volta manipolano l'array quindi non verificano ma manipolano l'array il primo è map map fa una certa operazione per ogni singolo elemento dell'array quindi volete trasformare questo array nell'equivalente ottenere un nuovo array partendo da questo perché ovviamente map ritorna sempre un nuovo array volete avere un nuovo array con tutti questi elementi al quadrato o tutti questi elementi al cubo allora potete fare a quest'array punto map x dove sempre ogni elemento il valore corrente e l'operazione che volete volete metterli al quadrato x per x e avete ottenuto il quadrato un'altra volta per x l'avreste al cubo quindi prende un elemento e ritorna un nuovo array che contengono i valori restituiti da questa callback volta per volta e map deve sempre tornare qualcosa ora qui non c'è scritto return perché ricordate nelle arrow function di una sola riga si può mettere il return ed è implicito il return quando in una sola riga quindi qui ogni volta viene ritornato x per x quindi il valore corrente per se stesso in quest'altro esempio in cui mettiamo tutto uppercase prendiamo la lettera la singola lettera e facciamo un return della singola lettera uppercase questo è un altro modo di fare quello che abbiamo visto nel for each invece di ciclare mettere la lettera e salvarla in una variabile uppercase questo fa lo stesso risultato e restituisce un nuovo array che ha già tutte le lettere in uppercase quindi sì il map sarebbe simile a for each con il return di un vettore di un array diverso se c'è una manipolazione di un array sì possono essere scambiati a volte magari il for each ti serve ma non vuoi manipolare l'array vuoi ciclare sull'array per fare altro quindi in questo caso possono essere usati per lo stesso motivo e map è un pochino più veloce ma in altri casi vuoi solo ciclare sull'array non devi necessariamente modificarlo o creare uno nuovo però sì in questo caso sì in certi casi sì filter ve l'ho mezzo accennato crea un nuovo array con tutti gli elementi che passano un certo test fa un filtro quindi ha una callback come in questo caso dato un array con 5 4 3 2 1 se noi vogliamo filtrare vogliamo generare un nuovo array con tutti i numeri più piccoli del 3 quindi un array con 2 1 possiamo scrivere filter primo parametro che è l'elemento corrente dell'array che viene ciclato e ritorniamo questo parametro solo se questo parametro è minore di 3 quindi come funziona filter in questo caso immaginiamo di avere qui una variabile che non c'è adesso scritta ma immaginiamo di avere un b uguale per esempio let b uguale b sarà un array ovviamente come funziona 5 quindi quando filter viene chiamato prende il primo valore e dice 5 è minore di 3 no niente andiamo avanti 4 è minore di 3 niente andiamo avanti 3 è minore di 3 niente andiamo avanti 2 è minore di 3 sì mettiamolo in b 1 è minore di 3 sì mettiamolo in b quindi qui b sarà uguale a 2 1 perché il risultato di filter è questo filter come gli altri può avere quei due parametri facoltativi l'indice e l'intero array su cui opera quindi come gli altri non l'ho detto precedentemente per map ma c'è un parametro obbligatorio che è sempre l'elemento corrente che viene ciclato dal metodo funzionale sull'array e gli altri che sono facoltativi ovviamente questo per funzionare deve ritornare vero o falso se la condizione è soddisfatta allora prendo il valore che c'è e lo memorizzo da parte se la condizione non è soddisfatta false niente non faccio niente e se nessun elemento passasse il test se noi qui per esempio scrivessimo x maggiore di 10 nessun elemento qui passerebbe il test perché non ci sono numeri maggiori di 10 e quindi b sarebbe un array vuoto infine forse il più complicato di questi di questi metodi funzionali reduce e poi facciamo una pausa cosa fa reduce reduce manipola un array esattamente come la manipola map esattamente come la manipola filter ma lo manipola in maniera diversa reduce combina gli elementi di un array utilizzando una callback per produrre non un nuovo array come fa filter come fa map ma per produrre un singolo valore quindi dato un array voglio in qualche modo ridurlo a un singolo valore secondo un qualche criterio questa come scritto qui nella slide è un'operazione comune nella programmazione funzionale e si chiama inject and fold ma al di là del dettaglio serve appunto per prendere un valore prendere un array prendere ogni singolo elemento di un array combinarli in qualche modo e ritornare un singolo valore e questo qualche modo è definito dalla callback che viene passata a reduce reduce ha due argomenti la funzione la callback che realizza l'operazione di riduzione o combinazione e un valore iniziale da passare alla funzione da passare alla callback se non viene specificato scusate un valore iniziale da passare alla funzione da passare alla reduce se non viene specificato usa il primo elemento dell'array come valore iniziale quindi nella callback vedete il primo elemento che in genere si chiama accumulatore perché è quello che accumula i valori in modo di averne uno solo alla fine poi c'è il valore corrente che è il singolo elemento dell'array che sta iterando opzionalmente come prima c'è index e c'è array esattamente come c'è l'intero array e poi c'è questo valore iniziale da passare la reduce che dice qual è il valore iniziale di questo accumulatore praticamente ora adesso vediamo un esempio ma un qualcosa che può essere utile un esempio facile per capire reduce può essere voglio fare la somma di tutti gli elementi in un array perché devo calcolare la media per esempio faccio la somma di tutti gli elementi in un array farò una callback che non farà nient'altro che prendere il valore corrente e sommarlo all'accumulatore e tutte le volte sommerò quindi qui farò 5 più 4 e poi farò la somma di questi due più 3 che sarà l'accumulatore e poi la somma di questi tre più 2 più il risultato più 1 questo per esempio è un esempio classico da cui anche a volte si prende il nome accumulator perché è l'accumulatore accumulo per esempio una somma accumulo il risultato e ci aggiungo poi il valore corrente o se voglio moltiplicare tutti gli elementi di un array tra di loro e ottenere il risultato complessivo qui c'è un esempio esattamente proprio sulla somma allora vedete come funziona ho quest'array di prima ho un parametro accumulatore e ho il current value che è la callback e faccio accumulator più current value e qui passo anche un parametro iniziale che è 0 perché passo un parametro iniziale che è 0 perché altrimenti viene preso l'elemento corrente come parametro iniziale quindi senza questo 0 avremmo al primo passaggio 5 più 5 al secondo passaggio 10 più 4 al terzo passaggio 14 più 3 e quindi se vogliamo fare la somma dell'intero array questo ci sta un po' rompendo il piano perché ovviamente facciamo partire contiamo questo valore due volte allora diciamo la prima volta vale 0 quindi al primo giro facciamo 0 più 5 che fa 5 al secondo giro l'accumulatore varrà 5 e quindi 5 più 4 che farà 9 al terzo giro l'accumulatore varrà 9 e il current value varrà 3 e quindi sarà 9 più 3 e così via facciamo la somma e qui c'è un altro esempio con la moltiplicazione in cui usiamo 1 come valore iniziale perché se lo siamo 0 annulleremo il primo risultato quindi 1 per 5 il risultato per 4 il risultato per 3 il risultato per 2 il risultato per 1 e qui per esempio c'è un altro un altro un altro modo che andiamo a cercare il più grande dei valori quindi se il valore accumulato è maggiore del valore corrente allora ritorno il valore accumulato altrimenti ritorno il valore corrente ritorno a chi? ritorno alla callback quindi al giro dopo accumulato avrà per esempio al primo giro 5 maggiore di 5 no e quindi ritorno il primo valore che è 5 al secondo giro 5 maggiore di 4 sì e allora ritorno a questa callback 5 e così via come si fa a capire chi è l'accumulatore e chi è il current value? l'accumulatore è il primo parametro e il current value è il valore e l'accumulatore è sempre questo è sempre il primo parametro il current value è il secondo parametro non so se sto rispondendo alla domanda ma ogni giro l'accumulatore è il risultato della callback se tu volessi sapere a quale indice sei arrivato puoi usare index per avere l'indice del per sapere se sei alla posizione 0 se stai valutando 0 se stai valutando 1 se stai valutando 2 e così via a come fa javascript javascript continua a tenerlo a due variabili è una variabile che accumula che viene inizializzata eventualmente a 0 e poi cicla cioè questo puoi farlo anche con un ciclo fai una variabile let accumulatore uguale a 0 for valore in a in a array se accumulatore è maggiore di valore allora memorizzo il valore corrente in accumulatore altrimenti non faccio niente e riciclo un'altra volta e vado avanti con l'accumulatore nuovo lo scompatta se vuoi un po' di più non sono tutte queste non sono operazioni che non puoi fare in altro modo con la programmazione normale ma ovviamente sono fatti in una riga sola e quindi sono molto più compatte sono molto più più veloci da scrivere a volte magari non veloci da leggere ma sicuramente più veloci da scrivere adesso reduce è forse il metodo più complicato se volete dei 5 o 6 che abbiamo visto e forse non è neanche quello più usato di tutti sicuramente map filter e for each sono i tre più usati in pratica di quello che rispetto a quello che facciamo noi di quello che faremo nel corso più che reduce e every e sum che hanno un utilizzo ma per esempio sul web un utilizzo già più un pochino più limitato quindi il reduce giusto per riassumere il primo argomento è il risultato accumulato della riduzione fino a ora quindi la somma parziale nel primo caso la moltiplicazione parziale nel secondo caso se non passiamo un parametro il primo valore è il valore iniziale e poi ovviamente l'accumulatore e il valore corrente cambiano e mutano nel tempo sì di questi metodi solo la domanda è solo for each non è chineable sì di questi metodi solo for each non è chineable di questi metodi qui quindi voi potete ridurre e dopo filtrare per esempio e qui per esempio c'è un esempio che mostra il il chain un chaining per cui noi vogliamo calcolare i prezzi medi di tutti i SUV che sono messi in questo array vehicle e quindi facciamo un filter li vediamo solo i SUV in questo array ci sono anche altri tipi di macchine vedete noi vogliamo solo i SUV quindi cosa facciamo possiamo filtrare quest'array per tipo il risultato di questo filter sarà un array temporaneo diciamo in questo momento che poi verrà messo qui ma alla fine quindi qua ci sarà un array temporaneo che avrà all'interno solo la riga 1 quella che qui è la riga 1 la riga 4 5 6 e l'ultima riga quindi abbiamo già un array con solo le cose che ci interessano a quel punto possiamo fare map su v.price quindi praticamente togliamo tutto se non questo quindi manteniamo nell'array solo questi valori perché tanto il resto non ci interessa in particolare teniamo solo questo teniamo solo il numero e quindi qui abbiamo manipolato l'array precedente e poi con reduce facciamo essenzialmente la media facciamo l'average di tutti i prezzi tanto l'array è solo numerico e quindi possiamo fare somma più prezzo dove somma è l'accumulatore diviso la lunghezza dell'array vedete che qui passiamo anche i due parametri facoltativi i non lo usiamo array sì perché ci serve la lunghezza e dato che una somma partiamo da zero e a quel punto possiamo stampare la media del valore che è 33.399 dollari suppongo quindi questo è un esempio al di là dell'esempio specifico sui mezzi di trasporto di chaining per cui il risultato di filter per cui reduce è concatenata a map map è concatenata a filter e reduce funziona sul si applica al risultato di map map si applica al risultato di filter filter si applica sull'intero veicolo potevamo anche non usare la map si e poi qui bisognava fare v.price certo non v.price si qui avremmo dovuto usare v e qui scrivere b.price o una cosa del genere perché sennò price sarebbe stato l'elemento corrente dell'oggetto quindi ovviamente l'intero oggetto qui quindi però sì si poteva anche fare senza map ma si può anche fare con un ciclo for o con tanti cicli for non è necessario no però questo è un modo per farvi vedere come si si può fare a concatenare per un caso specifico anche un po' se volete costruito per per questo caso ok adesso quindi facciamo un quarto d'ora di pausa e torniamo alle 11 ci rivediamo a mezzogiorno e proviamo a finire l'esempio utilizzando la programmazione funzionale quindi un quarto d'ora di pausa ci rivediamo a mezzogiorno a mezzogiorno a mezzogiorno a mezzogiorno